La tempesta post-derby non è ancora passata e la calma non è ancora tornata. Turbolenze e scorie post-sconfitta della Recchia a parte, in casa Vellino non c'è più tempo per leccarsi le ferite. Con una classifica sempre più deficitaria e la zona rossa sempre più vicina, quello contro il Pescara diventa uno snodo cruciale della stagione. In verità contro gli Abruzzesi si prospetta una sfida delicata anche per lo stesso Novellino, finito nel mirino della critica. Rispetto ad una settimana fa, l'allenatore di Montemarano può almeno contare su una rossa più ampia. Nelle ultime ore, infatti, il trainer può sorridere per aver svuotato mezza infermeria e ritrovato addirittura Cabezas. Smaltito il fuso orario, Novellino è stato costretto addirittura a convocarlo per la carenza che si registra in attacco, dove da ieri è tornato a correre in gruppo Gigi Castaldo. Infortunatosi al Polpaccio il 27 gennaio scorso contro la Cremonese, l'esperto attaccante, che domenica scorsa era stato convocato soltanto per pretattica, sarà ruolabile per la panchina. In campo invece ci andranno certamente Angelo D'Angelo e Pierngawa, che hanno smaltito i malanni del giorno precedente. Il capitano aveva rimediato una botta alla caviglia contro la primavera, mentre il belga aveva accusato un affaticamento. Perfettamente guarito anche Santiago Morero, che stavolta scivolerà in panchina, in ossequio alla logica dell'alternanza applicata da Novellino, dopo prestazioni non certo esaltanti, come quella fornita dall'argentino alla Rechi. Contro il Pescara, dell'ex perrotta in campo e del secondo allenatore Repetto in panchina, Walter Novellino appare comunque intenzionato a far scattare una mini-rivoluzione, favorita anche dalle assenze. Davanti alle Zerini saranno due le novità rispetto alla difesa, quattro varate a Salerno. Migliorini e Rizzato, esattamente come ad inizio stagione, andranno a completare il pacchetto arretrato con Gaua riportato a destra e Kresic confermato centralmente. Per Riccardo Marchizza, scomparso dai radar della formazione dopo la debacle di Foggia, si profila un'altra panchina. In mediana, complice l'assenza per squalifica di Molina, la Verone giocherà invece sulla linea dei centrocampisti con D'Angelo, Di Tacchio e Bidagui, un asse che in caso di 3-5-2 da parte del Pescara di Epifani, nella fase di non possesso, sarà supportato da Davide Gavazzi. Con asenzio squalificato, Castaldo a mezzo servizio e Cabezas ancora alle prese col fuso orario nonché una condizione tutta da verificare, Matteo Ardemagni non avrà alternative in attacco. Per Ciuffo Biondo, a secco dallo scorso 6 novembre a Perugia, sarà l'ennesima occasione per rompere un digiuno che al Partenio Lombardi dura addirittura dal 9 settembre nel 5-1 rifilato al Foggia.